Sono crudeli ma sono fichi, li chiamiamo grandi antichi Un cazzo di bello progetto, devo dividermi tra riordine e lavoro senza venire ucciso da Obeni Aia, eh sì Foto cazzo gli odi traslochi perché trovi una idea cazzo Grazie a tutti Grazie a tutti Devo fare un break prima perché ero cotta di sonno Faccio dare di spesso in occhio ai nipoti del vicino Devo trattarmi la fine a Obeni Tappi Tappi Lisa, tappi Non è il senso che i bambini sono particolarmente bassi, tappi Eh sì, è un classico Io ho una mia teoria che in realtà è un po' diversa dal bambino random ma secondo me sono nani dipendenti del comune, si fingono bambini E vengono a scassarti il cazzo perché se in quel momento tu dormi altri lavori non hai diritto di dormire, però ovviamente questa materia per pochi e non è per tutti da capire Stanno in tasca vecchia, in tasca vecchia odio pure quelli alla fine dei teatrosi Eh no, i tappi anche a me non piacciono molto, però saranno le vite. Assolutamente quelli dei bambini. Te si avevi intuito. E' servito? Ma corroborato quei 5-10 secondi di calma dopodiché... Per quanto tu possa essere crudele dubito che devi tirare un sigo nel senso di sigara in faccia ai bambini. Guardate che si fica da un'altra. Ah, dai, dai. ma c'è un messaggio meno ora ragazzi traumatizzati a vita resteranno muti a livello psicologico per sempre ciao Umbex ma si ma si gentile gutato che ne ho trovo bella la Gaia Umbe non bella Umbe ma adesso io da bambino comunque mi piaceva giocare in strade tutto dai miei nonni perché mia madre era il cazzo che mi faceva uscire a sentire l'arena figuriamoci però non sono mai stato un urlatore anzi anzi questo è il cile ragazzi sto crollando a sentire l'anzi a sentire l'anzi comunque è vero che le cose cambiano perché mi ricordo che da bambini la mia nonna c'era questo spiazzo con una serracinesca dove c'era dentro la Mercedes del tizio che che faceva che guidava per i matrimoni e le comunioni e robe no ovviamente noi la usavamo come porta quando giocava a pallone ed essendo una serracinesca enorme e si sentiva queste pallonate che io credo che adesso sarei in grado di uccidere per una cosa del genere e da bambino non capivo io perché desse fastidio perché a me quando la facevano i miei amichetti che non erano restati a giocare non dava fastidio quando ero a casa non capisco mi rendo conto che veniva era un'enorme rottura di minchia come rumore non vi sto a dire di no mi rendo conto adesso c'è due di pixel fede oggi dipingo un regalo di compleanno si non so cosa si vede siamo personaggi di pathfinder grazie Marco deve essere così dipinto ti mostro come deve venire perché questa è la aiuto scusate raga non ce la faccio e no no lo capisco lo capisco capisco adesso i nostri i nostri dolissimi errori da infanti anche secondo me è anche di disturbante non ce la faccio come dire che è pronto mangoni? fisicamente mangoni? Proprio viene intanto che lui? Raga, io non voglio apparire pesante o polemico, però vi faccio notare che per me 2D pixel fede e Enigma sono praticamente dello stesso verde, quindi sembra un tizio che si sta parlando da solo, è la cosa inquietantissima, visto il topic della discussione e quindi cambia la cintura ce l'hai, porca puttana bianca cazzo ce l'ha la cintura, che palle, buonissimo la schiena, cristo santa però, pronti, tranquilli, però sembra tipo quello visto la mia notare dei cappelli, visto che si risponde stai benissimo e lui che si risponde dopo grazie, cioè tanto raga mi sa che oggi tra una mezz'oretta stacchiamo e faccio solo 3 ore perché sto veramente pagando i vampiri e non facciamo tutte sul fatto che minchia dovrebbero pagarti di loro a te, dai cattisti pettorali Enigma eh, l'hai capito a tutti eh! c'è cane? ma si esatto esatto questo è il video quello che ti ingolosisce e poi ti dico mica c'è anche quello senza maglietta poi non c'è o costa 30 dollari si non ha affatto tantissimo residuo sto colore, c'è mezza bottiglietta seccata qua ma per il resto nel senso non è che mi lamenti più di tanto eh! di lì no io no ho detto esatto mi ha fatto stare malissimo quel cazzo di film, qualche troia splitter a dopo a dopo che ci sia stasera se ci siete allora è vero? è vero fede cioè mi sembrava insomma se lo prendi quando è ancora semidense e lo colli riesci a farci una statuina ciao Kira e shoutatemi la buona Kira mentre se ne va che vuoi l'avevo vista anch'io ne sentite le voci ma nella norma nella norma sarebbe una vermi ah grazie Kira, grazie Rima è svegliissimo raga non vi preoccupate va tutto benissimo va tutto bellissimo ragazzi va tutto bellissimo che cazzo dici? io so cosa dico studiato italiano bianca no qua no domani che lo che abbia detto e invece a casa non lo so detto che scendiamo attiva prendere sigarette anche la palette di colori è un po' anche inquietante fede credimi come sta Genesis? non l'ho vista oggi ci aspettano tutti i macchinari a calci come temo di dover implementare un foro lievemente più grande? in che senso litigava con i call center? cioè nel senso che loro o la sua ditta si appoggia a dei call center ma questi non fanno il loro lavoro non con dei call center che le scassano il cazzo lavoro, vero? appunto la seconda che bello io ho lavorato in un call center cazzo cazzo li vieterei per legge te lo giuro perché li vieterei per legge vedete quante sferitte ho messo qui dentro nonostante il colore continuerà a prendersi i call center sono brutti per tutti sì 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 perché ci lavora ti giuro che praticamente sei veramente lo step precedente al carcere la dj quotidiano ha pubblicato un articolo ha fatto dell'app per il green pass problemi ma il green pass è va ciao Elinor come stai oggi? perché io continuo a ribadire l'enigma siamo in mano a degli incompetenti che non capiscono un cazzo stai cercando di spiegare il suo perito alla faccina del green pass per la terza volta ovvero non ce la facciamo ragazzi sì sì tutto bene tutto bene guarda io ci ho lavorato ci trattavano come degli schiavi sono stati fondamentalmente bullizzati dai capi trattati di merda il lavoro uno dei più umiliati che abbia mai fatto in vita mia cazzo sweet e in più scassi il cazzo alla gente ma in maniera veramente ce la fa più bene ci sono cose qua tipo quello dell'articolo l'articolo di giornale lì non so se c'è del dolo e sono fatti apposta da qualcuno che vuole fare casino o sono proprio stupidi ti pagano a ore dove lavoravo io ti pagano a ore paventandoti questo bonus di denaro sui contratti chiusi che ovviamente è un'inculata fotonica perché non riuscirai mai a fare così tanti contratti poi se hai dei contratti tu hai un contratto per cui se dopo un po' non li fai i contratti dopo due mesi li lascia a casa tanto il problema è che anche lì di disperati c'è pieno il mondo che pur di far qualcosa vanno lì di nuovo è tornato bucefalo fate lo shout out io una volta ho fatto un colloquio e non c'è neanche un fisso devi guadagnare in base a quante persone e convincersi sì ma io provo è che la paga base è una fame perché alla fine io facevo tipo 20 ore alla settimana cioè io facevo dalla rinnova alle 13 e via no il problema è che il bonus non lo prendevi mai è una persona abbastanza sveglia in questo senso e quindi se uno dall'altra parte è interessato lo senti se uno ti manda a far culo non c'è una voglia lo tagli loro invece ti chiedono di insistere anche con quelli che non hanno voglia per prenderli per stanchezza e non li prendi per stanchezza perché abitualmente ti appendono in faccia quindi nel senso c'è la cosa migliore è tagliare la telefonata su uno certo di cazzo e provare a fare più chiamate possibili sotto cazzo e devo pagare i mezzi pubblici e devo prendere un buon abbonamento dell'autobus e devo prendere un buon abbonamento dell'autobus la parte mandava in quello e va 10 minuti di pausa metà mattinata alle 11 perché comunque il lavoro è considerato videoterminalista e abbiamo la tizia dell'ufficio paghe che usciva fuori col cronometro a cronometrarci è tornato sir ciao sir fai che sul cazzo di orologino forza 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 ad entrare ad entrare 10 minuti andati forza 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 ragazzi io ero uno dei pochi stronzi maschi io ti dico c'è 10 minuti sto fuori un quarto d'ora perché se sto fuori undici esplode una sede da sede credo col sentersi bello è insaltamente formativo che cazzo vi devo dire per l'altro ovviamente mi hai trattato di merda perché tutti i tavoli del call center quindi sei la fecciasi uno o una che non ce l'hanno fatta il lavoro ubbiliante è pagato poco e niente c'è anche chi magari dice ma che la mentera è mica come la... sì col cazzo questo purtroppo è una forma mentis di quella ghiaccianti perché se non è come lavorare in miniera poi ti fa gollare le peggio merda cioè a me ai tempi era successa una delle cose più cringe ma più cringe che penso possa succedere che secondo me è sexual harassment però... io avevo i capelli lunghi fino al culo andavo a lavorare con la coda di cavallo la coda di cavallo le avevo legati puliti ordinati non è che avessi la merda e la moglie del capo si era presa una... un interesse particolare in me una donna che aveva avuto 18 anni più di me nel senso questa veniva e mentre io chiamavo mi slegava la coda mi levava l'elastico e mi faceva la treccia mi accarezzava la testa io eri con la cuffietta e il microfonino e questa che sentivo da dietro le mani di questa e veniva cominciato a toccarmi il collo mi legava l'elastico e cominciava a farmi la treccia poi mi faceva così cioè un cazzo di cringe io di quel lavoro avevo veramente bisogno quindi non potevo mandarla nel culo perché stavo cercando dell'altro ma non... ora capiamoci siccome le mie compagnie di lavoro erano tipo 45 a turno ed erano praticamente credo tre maschi e 42 femmine e garantisco che c'erano tanti ragazzi che capelli lunghi come i miei facciamoci due cazzo di conti no? poi ovviamente quando ha capito che non ce n'era è stata una tragedia è stata una situazione abbastanza agghiacciante diciamo non so se le lo facesse perché si annoiava se aveva veramente un interesse se era un altro modo per stabilire la propria... il fatto che loro lì ci comandavano e ci comandavano pesantemente però era assolutamente super cringe e non tanto il gesto in sé che per amore di Dio il fatto di essere bloccato lì e non poterle dire e non poterle dire e non poterle dire e non poterle dire si di disagio esatto perché ci sono dei grigi a stracazzo culo si ma non capisco ti dico tra l'altro non lo so mi dici guarda mi dici mi piace hai 30 anni io ce l'ho 50 ti va di scopare così non stringe attached vedrebbe Luca Cordero di Monte Ciplax ci trattiamo da essere civili adulti ma queste cose qua l'ufficio in alto era una sostanzione enorme di un palazzo genovese di quelli dell'Ottocento e c'era lo stanzione col marito che ci guardava dal vetro dell'ufficio c'è le colleghe che mi trattavano di merda perché pensavano che me la bombassi tra le due a tre che avevo conosciuto erano tipo amici comunque quelle vicine a me di 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 booth di cabinetta e una che come si dice è una un vecchio racconto di lavoro e una che che prendeva l'autobus con me e dice che non c'è spazio ha detto e il cocco si il cocco ma il cocco sbagliato quindi non capisco che cazzo di colore che sia ciccio per lugo ciccio per lugo c'è veramente un cazzo di colore lavanda io non ce l'ho il colore lavanda lavanda brown o non brown o lavanda intestinale che dopo è brown per ovvi motivi ce l'ho il colore lavanda secondo voi c'è molto il toto il pollo lavanda non c'è ragazzi ma infatti tra l'altro io mi ricordo che gli ultimi tempi che lavoravo siccome aveva aperto la fiumara al centro commerciale ci avevano fatto firmare un contratto che se non gli davi tipo 4 mesi di preavviso loro non ti pagavano lo stipendio nell'ultimo mese che tra l'altro è stra illegale io avevo fatto domande di lavoro ma altrove alla Lincoln Electric che avevano preso e l'altro preavviso normale e ora me lo invento Brasa ora ci adattiamo e raggiungiamo lo scopo come Marines e l'altro preavviso la settimana ho pronto dei coglioni poi ho chiamato e dice adesso ora faccio i soldi veri se voglio uno stipendio normale provate a non pagarmi l'ultimo stipendio e vi denuncio faccio finire su tutti i cazzo di giornali e vi dico come cazzo tratta la gente assegnino con il retrato però difficult very difficult molto brutto tra l'altro io ricordo che il numero richiesto minimo era 4 associazioni al giorno e noi facevo la 4 a 5 al giorno in 4 ore che secondo me è un numero aberrante se io non so come cazzo faccio della gente al telefono a darti la sua carta di credito indirizzo numero di telefono e cazzi e che tu gli dici che sei quello e questi si fidano c'è e che tu gli dici immagino tutti nella doccia come la scena di sventura la scena riprovevole di sventura però la scena la scena ok raga ho scoperto che qui uno scherzo che tira un botto è di snaz cioè schicazzi rimasco più ritardato contagiato da Marco e dicono che Marco non è Veneto ma io i miei i miei sospettini fondati ce l'ho sì anche meno eh e non lo so con questo spam tra l'altro l'altra volta me l'ha fatto tipo 18 volte di fila pensavo si fosse inchiavardato male anche perché l'altro per me è che tipo su telegram no se mi mandi il messaggio lì dopo un po' non hai detto guarda che è ammagamato il messaggio ma che cazzo l'ho visto cioè se nelle notifiche non mi romperò un po' la minchia esatto vada vada vai tranquillo bucce semmai poi dopo ti raido allora vedo un attimo come sonnesso e si bastava metterci mi amor bailamos il sogno il sogno il sogno il sogno il sogno bailar contigo e cazzo e veniva che ed era venuta la nuova hit dance dell'estate il sogno il sogno era semplice però guardo chi cazzo è che mi ha scritto solamente è Marco che manda le cose al cazzo per disopere la RAI io ho sti giorni qua sono veramente bollito non so perché ma questo non è uno scherzo quando penso a Marco che siamo amici su Facebook che Facebook mi dà la stupida geolocalizzazione mi viene in mente Casal Custer Lengo e non lo faccio per dissare Marco che sono proprio rincoglionito cioè la cosa mi preoccupa abbastanza e più ci penso più mi sforzo di pensare a che paese è e più me ne mi incasino e non mi viene quindi insomma qui sono un po' overworkato al cervello mi sa in sti days però i miei pensieri Brasa ma sai che non è mica una cazzata prismatic la canzone per Maria ha fatto un po' Rai prismatic prismatic oh ma l'ho spedito ho ricomprato ieti ragazzi sapete che lo colascia sulla spalla che ci piace tante voglio provare a farlo per il Blood Bones ok non lo so perché Casal Custer Lengo adesso è venuto in mente dov'è che tra l'altro devo dire anche un nome che si presta abbastanza presa per il culo però primo cosa sono ricognito un disegno primo di è un disegno un disegno un disegno un disegno che non è l'altra cosa mi sento di poterti dire usalo contro di lui e tra l'altro l'unico nome veramente più agghiacciante c'è un nome io dove aveva arrivare a casa di vacanza un nostro amico che purtroppo non lo devi neanche modificare e riprenderlo per il culo conterò i pominchi a porca troia sono stati tra l'altro ma questo posto è peggio è peggio Lisa perché questo posto scatena il peggio conflitto interiore anche alle persone più inclusive che ci sono perché si chiama Casal Busone ok e Casal Busone mi fa proprio male dentro a me perché tra l'altro mi fa male perché in tutto questo delirio di prenderlo per il culo perché andava a Casal Busone in vacanza lui aveva credo che aveva tutto là una quindicina di anni meno di me ci andava perché voleva stare lontano dal mondo silenzio e robe quindi l'anziano top non che io vada a Mallorca a Marbella capiamoci però è un giorno il Dio nel quale non credo ha deciso di darci questa fantastica illuminazione e un cliente ha comprato una credenza per la sua casa di vacanza a Casal Busone io sono andato a consegnarla con un mio scientemente con cattiveria come dicevano nel patto dei lupi con costanza e cattiveria sono andato a consegnarla con l'altro ragazzo che era sempre stato vittima delle descrizioni bucoliche di Casal Busone ci andate a fare sta cazzo di consegna credo tra aprile e maggio ok Casal Busone in Liguria non è che cazzo stiamo parlando di un posto in Alaska praticamente allora il posto era deserto un paese fantasma c'era un cazzo a parte la casa di questo che era aperta non c'era niente proprio proprio sbarrate proprio la anti arriva questa cazzo di credenza scala così tra l'altro e questo ci dice mi sa che farete meglio a muovermi perché secondo me viene a nevicare io dico affacolo becille di merda aprile fine aprile maggio fiocco di neve 30 secondi una tormenta di neve fotonica ci sembrava di essere veramente cazzo Groenlandia buona sta cazzo di credenza tempo che si posero con la macchina dove si non aveva aveva giusto le catene ma si mette le catene porca minchia siamo in macchina il mio collega io e l'altro ragazzo che ci ha dato una mano perché la chiedenza comunque era grande e si dice di dietro pronto? si ma dove cazzo vai in vacanza tu? e gli spiega e gli fa si no a casa il bosone è mai normale questi cambiamenti climatici ci sono che cazzo ti rianco l'onda le bermuda in liguria porca troia segui i paesi che sembra veramente che il sindaco ti offre i soldi per andarci a vivere no? c'è bene ma non benissimo cioè avrebbe la tristezza intrinseca no? vi avete fatto il cazzo di cose che sarebbero di legno nella stessa pietra della che rilaccia aggimento non è che pismo si aggimento è però minchia cioè l'ansia proprio un po' adesso dice la pioggia di star è meravigliosa esatto questo è che mi ha appena colpito ma niente è un rospo ogni tanto piovono ma soltanto in primavera andiamo alla caccia del marco visto che si è apparato esatto esatto ora so ora non più ah meno male finalmente così mi levate da patire sti cazzi culi eccetera eccetera e viva dai e ora so ma che specie frattetta non è malcuno sottoporto è un rato pernugo di balude dai usi un rato così un rato per evocarlo il 99% delle volte non si presenta che rato mi ricordo che devo finire un video avviato tempo fa e mi hai perseguito rato a lei che cazzo è combinato stavolta in realtà la sua mente è malata che cosa darà adito adesso ma devi dire che se è 166 esattamente quando è l'altitudine era coincidenza che coincidenza eh non è una coincidenza ma Massimo Corda te la danno a te mentre ti trascina dietro il cavallo stando attenti a non rovinarti la pelle a domani live col bassotto ve lo dico mentre mi lanciano da qualcosa di molto alto per mettermi no quello no Marco secondo me intorno alle balle si fateli fare bungee jumping con una bella corda anelastica intorno al pippo bondage pesante ma poco gradito povere pallino capisete che è dato l'idea invece vi ci torna al collo minchia la fiera del divertimento all'idea Grazie a tutti. Ho comprato l'effetto tasti di ascensore che impazziscono. Grazie a tutti. Marco, profumo di Marco, le tue palle ti stacco nel parco. Ese Marco, descarto i misi Marco. Grazie a tutti. 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 noi ci incontriamo qui per celebrare il suo cuore grande come una casa è tornato Edo ma Mengoni hai buttato lì Mengoni e poi sei sparito ma Mengoni davvero era una cazzata ora non è sapere che era una bottiglia lo faremo lo faremo e dì ma che cazzo dici Dio santo ti perdono solo A perché ti voglio bene e B perché sei stanco questa è una battuta che avrei fatto ridere Cecilia adesso noi ti perdono anche per quello maledetto e non risponde alla cosa di Mengoni inutile cioè non lo sapremo mai Marco tu fumo di Marco fly low vola basso però diciamo e stiamo per sempre nel dubbio infatti non ricordiamo che il profumo di Mark ma che cazzo dici come se il mio canale ci fossero problemi a dire queste cose si è caracollato fin qua non mi piace questa cosa non mi piace per niente ho fatto tutto tutto cazzo si accorta di niente mi sto strappato anche il cervello porca puttana si mi sono tirato fortissimo mi sono tirato così tanto qua che mi ho fatto male qua tanto a tutte e due le parti e non mi capita ogni tanto dicevo prima Brasa che pensavo di prendere dei blocchetti di legno metterli sotto la schimbaglia di modo l'alzarla a questo livello qua e poter lavorare così praticamente di modo che per voi sia più vicino alla miniatura e per me non deve bastare così che sembra minchia Mastro Geppordici elfo boia vivi di paranoia devo stare attento che mi faccio sti movimenti a cazzo e sento la musica e mi tronco ma il piccato è perché così sto dritto cioè perché si stia soltanto che così appoggiando le braccia invece che così cioè perché non ce la faccio stare così sembra veramente bene ragazzi ora parliamo di miniatura questa sera sì amore mi sono appena strappato il collo per girarmi a guardarti che mi hanno visto morire in live Brasa ha visto il fulmine sulla testa e no infatti stavo pensando di prendere delle cose che siano magari sei forate con la con la segatazza di modo da passarci poi dentro Enigma ti chiedo scusa per la cosa di Mangoni avevi ragione guarda sono io che sono prendendo troppa precisione di modo da avvitarli poi i pini del no sei il signor Bars non so che cazzo ha la Lolla non lo so ho detto se cattazza ride che cazzo ti devo dire Marco porca di quella troia do la colpa a te do io sono ubriaca edo porca puttana che cazzo è successo con Mangoni Cristo di Dio sono il più salto no ma hai ben criticato assolutamente lo so la rima che la risultata della Lolla è bellissima perché tu non vedi la faccia con cui la sta facendo ciao Agio mi è arrivato niente l'ho salutato dal telefono ok basta cazzo mi hai creato più saspen hai fatto tanta saspen scrivi autore di Lost in confronto mi sono quattro bambini dell'asilo non chiedermi cosa sto dipingendo Agio per l'amore del signore cazzo non farlo almeno tu che mi vuoi bene era facilissimo ed Inba lo sai tanto visto che tu fai il teatro saprei bene la costruzione anche da esterno visto costumi e robe ti saluta Agio ecco ciao Agio ciao Lili è tornata ciao Lili si è rotta pure la ragazza facciamo anche a gare ragazzi grazie a tutti grazie a tutti ah minchia 45 minuti nulla di più nothing less nothing more ci abbiamo metto come si monta la testa lili profumo di lili le vi abbatte come i birili perché lili non la pietà ragazzi io ho visto la storia di lili cazzo io l'ho vista la storia di ieri però cioè contento per te però anche meno sub zero perché che ansia cazzo uno spazio posto è tutto mio Ale sto mangiando fonzi se bevendo bavaria stai celebrando un po' troppo cioè nella maniera sbagliata cioè mi sono immaginato veramente con quella io sono già veramente ciaveli questa è la faccia di una casa nuova con la lettera di notizia attaccata al rabbino e quello mi ha fatto girare il cazzo fine della storia su instagram ah quindi c'è anche uno studio dietro un po' troppo sono che ne capte diametri ormai per la foto quanto sei pirla cazzo vaffanculo era uno dei pezzi che mi era piaciuto di più della foto per i adesso adesso pezzi vabbè ma così mi invogli Enigma queste battute qua stanno creando dei mostri te lo dico Lili tra te la ceci state invogliando troppo questo tipo di umorismo non senso e anche un'altra live censurata perché è la mia tipa bestemmia penso perché posso farmi peggio lo so ma io infatti ho già giusto un piano per distrarre Pippo mentre lei fa le valigie e scappa da te e poi conseguentemente dà la Lola Zurli da che mente malata è riuscito fuori il mago Zurli per farti pensare che fosse un personaggio amichevole da ammirare e volere in casa cioè mago Zurli era palesemente hit quando è deciso che è stato toccato e provo a farsi la tinta perché ha la crisi di mezza età venì piung, 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 piung PUM PUM Ficeva venire fra me Aveva capito Sì Perchè il mico Zulli Che conosce quello di Hey dude where's my car Che cazzo è Zulli Che cazzo è Zulli Che cazzo è Hey dude where's my car E c'è uno Zulli Sì 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 Ho capito Ho capito Ti faccio abbracciare La madonna Ti so dove si arriva È molto dopo la Esatto Ha risentato Emeny Ha preso un colpo così forte Che è tornato in posizione Di fabbrica Lili No stasera no Domani ve le ità piratesche Stasera vado su Destiny Perchè domani Destiny È chiuso per 12 ore Non mica giocare a Fasmo Stasera Che c'era Chira che mi sembrava interessata Visto che è tornata Lola Quindi Dicevo Se vi mica sentire Chira Per giocare a Fasmo Anche la Ceci Se vuole Non lo so Perché Tocca tenata oggi Voleva giocare È interessata Sì Eh Quindi bisogna vedere Se le stanno Che la posso Il gioco Però Il gioco comunque Le ho spiegato com'è Mi ha detto che ci guardo un attimo Se lo che stavo uscendo Oh È arrivato pure il mio momento A presto Rimagazzi Essere passata Per quello che intendo io Non ha nemmeno avuto Una minchia di successo Mi pare Quindi in Italia Aveva il titolo Di fatti strafatti e strafighe Minchia Se me lo ricordo Cazzo Mi ricordo il titolo Ma è proprio saltato A pie pari Risaltato col salto mortale E poi nel dubbio Anche chiccato E poi nel dubbio Guarda che minchia Stava uscito 40 anni fa Marco Minchia Mi date del vecchio A me Porta puttana Ma è che hai scoperto Un gruppo delle tue parti Che ti fa piegare Marco Benì Nuovi nuovi Freschi freschi Un quartetto comico Che insomma Ne sanno Ma è stata tradotta A culo In italiano Comunque la setta Di zurlì Perché figurati C'è stata fatta A gocchi Comunque si dicevo Sto ensemble comico Nuovo Che insomma Quartetto giovane Della tua zona Gli gatti di piccolo Miracoli So che ti piacciono Tanto Sì sì I gatti di piccolo Miracoli Non sai chi sono Certo sì Bravo Dai quel Gruppertetto comico Di Verona Jerry Cala Oberto Smyla Nini Salerno Franco Pini Dai Ti piace tanto Della tua zona Lì Che dalle vi ha visti Mentre ti leggevi L'arena E' Mentre E' E' Mentre E' sta la musica di quando Marco si rende copio dei veri poteri mutanti ma l'unico potere che hai è di cambiare le carrile dell'attivisione degli altri facendosene accorgere immediatamente e facendosi menare going to the Mona sì sì saluta Miladice vai tranquillo mentre torni a casa stasera con la tua biciclettina veloce veloce sui tuoi pedalini che passi in lunga un bacio o capitano mio capitano si si chiama Brenta un cazzo non so se sei a Verona mio caro la città dell'amore oh no scusami Marco la città benetà dell'amore benetà come te non conosco da sia la mamma che magari James Bond e no altri sull'odio e violenza contro ma che cosa la cazzo dice scusami la DG che mi ha detto che devi vergognarti per quello che hai detto di lui di lei e o di loro Brenta fermata Brenta apertura porta a destra doors open on the right perché brasa che derro ragazzi Marco Marco slipped into the Brenta we don't care show must go on Marco e Milito show must go on come on come on come on ciò però il Brenta come le sue pante ga esatto stai gitto te che non puoi parlare del Brenta che non sei manco dove cazzo è torna nella serenissima e non rompere i coglioni la bandiera del vento è il negatore della tua origine esatto non come ma temevo dove però vabbè è andato ancora bene Marco la bandiera ha trovato e con essa sarai sodomizzato caro Marco che ti ho conosciuto è stato un piacere l'avverti incontrato Lisa però che ansia sta frase ti ho immaginato mentre ti stai mettendo i goggles quelli che vedi tutto verde cazzo ciao ciao ci conosciamo ad ogni caidero ha palesimente trovato il modo di seguire la live e si aspetta che lo mandi in culo anche adesso il vento passa il chimento quindi ha confermato che Marco eh non so ma ragazzi l'unico che è in denial è lui non è che possiamo stare a menarcela più di tanto forse sì spero che ci guarda l'alterni ubertosi l'alterni ubertosi l'abbiamo perso che lui sono quasi dove nasce il Brent ok bravo sì bravo vai 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 a fare i fumi di porpora vai vai che ti fa bene vai vai a giocare a pampano nel campo minato vai si nasce il Bassano gorra ad uno l'ale un due tre morto invece che Stella purtroppo succede e che Bassano alcune delle persone che mi sono più cara al mondo che vanno abbassando ci ho lasciato fuori quel posticino ha aprito allora Brighton può succare grazie grazie posto così faccio i miei conti trago le mie conclusioni mi porto dentro il mio dolore come faccio oramai da anni grazie grazie rincaro la dose con un bella tecnicazzo ti conosci dai dai come morirebbe direttamente direttamente ci sono due posti che avrebbero escluso i primi sferali domani Bassano e York ma i domani che è York ho capito sì hai uno thanks for the follow grazie per il follow ma sì vediamoci tutti lì dai pisse ne forti ma comunque c'è York è veramente molto bella che io sappia ci devo andare l'anno prossimo ci si importa anche i C5 fanno base da me perché mi fa paura va bene volentierissimo non sei l'unico mi fa volentierissimo piacerissimo che sono un po' stanco ma sì 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 cosa disegni di bello ti cercazzo una domanda a fare lasciami disegnare hai anche ragione è stata un momento mi piacerebbe sì io vorrei vederla bene perché nel senso sarò a campionato di inglese di Broadball ma mi piacerebbe vedere quello che si può a questa gente appena usciamo si va in gineria sì ho capito ma magari anche come dire un po' meno sono ragazzi disegnando un cowboy al momento ah ok ok ma c'è il canale stream c'è un instagram qua siamo se abbiamo un botto di artisti che disegnano dipingono quindi nel caso se ti fa piacere mi vergogno se lo faccio io guarda può farlo chiunque credo vabbè questo ma io anche è piccina da vedere ce la fai vedere quasi tutto volendo io me ne sono innamorata è bellissima e ho capito ma la Dio dovrà già far convivere York con la lotta di diverse sconfitte una dopo l'altra visto come avevano di solito i miei tornei lì però in effetti scusami quando è che marchi apri l'anno prossimo credo potremmo potremmo prenotare rimanere qualche giorno in più l'anno qui abbiamo però detto bed and breakfast ready eh sì vabbè possiamo prenotare l'anno in qualche parte ma devo dirglielo però ci vuole un posto in più per te lì non posso dire adesso ne parlo con Sida adesso possiamo disdire fino a tre giorni prima adesso gli chiedo un attimo basta saperlo madonna mia che straccia cazzi ma che cazzo io non vado a piangere da nessuna parte vado a piangere sulle battute di umbe che scassa i maroni mio frattello ci ha vissuto per un po' io lo so però ci ha vissuto per un po' York e per un'altra troppo bella cazzo per le mie coglioni no non è è il numero uno e oro io posso bannarti è diverso ti sei perso parte delle priorità del canale mio caro ad offrescerlo studiarsi l'iria è stata la prima a crederci davvero a parte la famiglia l'iria è la famiglia mastardi eh tu dovevi umbe quando dovevi parlare con il mio avvocato si sto cazzo il tuo avvocato dipende da mio caro perché non le scasso i coglioni che invido a tradimento quindi ma umbe umbe dove eri tu quando la lini subava dove eri quando la lini ci cadeva per prima no grazie umbe credo che faremo da soli se vengo bandato meno merito mi sto già leccando i baffi umbe fatti due conti che cazzo di canzone ma ti conoscevo parte due sì umbe mangio e poi ti porto a fare un giro turistico per una casa bianchiale era esattamente quello che volevo dire grazie edot sei sempre più avanti meno male che qualcuno l'ha capito cazzo era esattamente quello riferimento grazie edot scherzi a parte del 2 li va li va veramente di merda Marco tenendo il sconto del discorso che si fa c'erire del computer che è umbe è abbastanza grazie ubisoft ubisoft mi fa malagare ma coi dei gali gliela faccio pagare mi faccio tutto sai rimborsare il gioco di 10 anni fa fantastico bene buona fortuna cerco di contattare alle in bocca al lupo lisa di bolidi secondo te se domenica mi butto in un bel unpacking e altri giacchi ubisoft insalati giusto per capire se il gioco il client giusto giusto non una cazzata bravo brasa brasa è sempre sul pezzo vedi beh sul tardi direi a che ora torni da lavoro tu l'hai domenica quando domenica domenica niente l'unpacking ve l'ha fatto dalla mia palletta perché devo percepire la sofferenza di ube quando apri i pacchetti darro non c'hai vero darro è andato in vacca darro un videino li si può sempre mandare darro darro in vendemmia apri i pacchetti e poi darro bestemmia perché darro ha la faccia da mummia hai la faccia da darro dove cazzo hai definito eh no ragazzi sono andato a vendemmiare cioè capite perché eh e no non è che poi c'era anche le olive da prendere io allora sono sempre a parchetto devo capire se scende o meno perché se non scende posso andarci prima se invece scende può essere complicato a vendemmiare a vendemmiare ma quindi spoiler di qualche film assolutamente sì ha funzionato direi comunque oggi i numeri sono decisamente più alti vedi che vedi che con la paura paga ce l'avevo detto il nostro piano il piccolo Marco finalmente ha trovato la formula giusta e ora sta per vincere il gran premio di chimica della scuola e poi vado a giocare di ruolo con fidici cosa no ragazzi veramente che praticamente cioè l'uva mi piaceva un botto ho detto fuoco alla vigna era la mia un po' grazie a tutti 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 quando il grazie a tutti 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 grazie a tutti